Una tranquilla mattinata di Pasquetta ha rischiato di trasformarsi in un incubo per un gruppetto di tifosi della Roma arrivati a Lecce per assistere alla gara di campionato al Via del Mare. Erano passati da poco le 10 quando 5 sostenitori romanisti appena giunti nel capologo salentino, molto probabilmente a bordo di un pullman, sono stati aggrediti da un gruppo di facinorosi del Lecce. Teatro della contesa il siti termina del Foro Boario di Lecce. Nessuna premeditazione, sia chiaro, a dare nell'occhio sarebbe stato un bomberino con i colori sociali della Roma. In ogni caso si è trattato solo di un incrocio fortuito tra due opposte tifoserie, degenerato però nel giro di pochissimi minuti quando si è passati dalle parole ai fatti. Prima qualche straturamento, poi calce e pugni. Ad averla peggio un ragazzo che ha riportato però lievi ferita in volto. Tre giovanissimi tifosi romanisti invece hanno iniziato a darsela a gambe trovando riparo in un bar di via Adriatica. Erano terrorizzati, ha raccontato uno dei collaboratori dell'attività di ristorazione. Avranno avuto tra i 18 e i 20 anni. I tre ragazzi hanno corso a perdifiato per paura di essere raggiunti da uno dei sostenitori del Lecce che era le loro calcagne. Una volta entrati nel bar si sono rinchiusi nei bagni, ma la caccia ai romanisti a quanto pare sarebbe proseguita anche per le vie del vicino quartiere Santa Rosa. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Digossi di Lecce che ora in collaborazione con i colleghi delle volanti stanno ricostruendo l'esatta dinamica di quanto accaduto. Si tratta ad ogni buon conto di un episodio sporadico. Per fortuna non si sono registrati altri fatti analoghi in città.